Ragazzi sono Fabio Amante, docente FIF, oggi esco un po' dal mio ruolo federale per parlarmi della mia esperienza in qualità di manager sportivo, nonché direttore tecnico di una catena di centri fitness, poiché ogni anno la vera sfida è riuscire a inserire all'interno dello staff tecnico delle figure che siano il più possibile polivalenti, soprattutto all'interno del fitness gruppo, ovvero la sala corsi dove vengono svolti allenamenti di qualificazione, cardio, functional training, step, hobby eccetera eccetera, con persone che sicuramente hanno delle capacità condizionali e coordinative diverse tra loro, quindi proprio la competenza di un bravo trainer è di poter far allenare queste persone contemporaneamente anche con una buona dose di carisma, con una buona padronanza della musica e devo dire che diventa sempre più difficile trovare delle figure competenti e questo rende questa figura più ricercata e anche dal punto di vista remunerativo leggermente retribuita, quindi do sempre come consiglio a quello di fare sicuramente questo percorso formativo perché poi da degli ottimi sbocchi lavorativi vi rende più competitivi nel mercato del fitness, quindi non perdete questa occasione, è presente la nostra formazione, un nuovo format vincente che vi darà tutte le chiavi per poter essere degli istruttori di fitness group di successo e quindi vi aspetto nelle prossime date.